Aumento dei prezzi ingiustificato anche a causa di aziende statali nel tempo diventate private. Lo dicono i sindacati Cobas e PIN che a Lecce hanno protestato ai piedi della prefettura. Cobas e partite IVA nazionali ai piedi della prefettura di Lecce per protestare contro il caro energia e caro carburante che hanno causato l'aumento di tutto anche dei generi alimentari e dei beni di prima necessità. Questo è un sistema che non sta andando più bene. Se pensiamo che Eni ed Enel hanno la sede in Olanda qua c'è qualcosa che non va. Queste società che erano di fondamentale importanza per l'economia in passato adesso non sono più in Italia e purtroppo il prezzo della materia prima viene lasciato alla speculazione della borsa tant'è che il prezzo reale delle materie prime è bassissimo però il prezzo finale diventa altissimo. Chiediamo ascolto al governo perché la prefettura è il governo sul territorio. Oggi chiederemo la possibilità di non avere il distacco della corrente elettrica alle tante famiglie, ai tanti imprenditori, alle tante imprese, alle tante aziende che sono ormai sul lastrico e successivamente la possibilità di ricevere dal governo, dallo Stato che dovrà addossarsi questa responsabilità anche perché se vogliamo parlare anche dell'imposta dell'IVA è un'imposta che lo Stato può immediatamente eliminare quindi ricevere la differenza per queste bollette, per questa mega bollette veramente incomprensibile. Quando un imprenditore ti chiede di essere aiutato con la legge antisuicidio è una fortuna che te lo chieda ma veramente vuol dire che siamo arrivati alla fine.